Di Maio, ministro degli esteri? Di Maio è, non dico semi-analfabeta, ma insomma è uno che ha detto che la Russia è un paese mediterraneo, quindi io uno così lo metterei, lo manderei al collegio, non al governo, per imparare. Poi sui congiuntivi in Cespica che è un piacere. Insomma, è difficile dare un giudizio su una persona che ti fa solo ridere quando fa degli errori macroscopici. Berlusconi e Forza Italia non sono morti, ma sono in stato preagonico. E quindi questo governo, no, preagonico è una parola che a livello italiano mi piace, è difficile dire quanto durerà questo governo, insomma, in soldoni e per concludere. Questo non lo può sapere nessuno, anche perché nessuno si aspettava, per esempio, l'uscita di Salvini. Quindi se il giorno prima mi avessero chiesto se il governo sarebbe durato, avrei detto sì. E quindi io non mi... cioè, siccome non sono uno che legge nel futuro, legge nelle sfere di cristallo, mi arrendo. Vediamo un po'. Io mi auguro che crepi, personalmente, questo governo, perché mi fa orrore. Però questo è un altro discorso. Grazie. Grazie.